Il costo costi Silvia Bosurgi che ha soltanto Rinachi davanti a sé e la beffa alla grande l'Italia ha segnato tre gol in due minuti da meno due torna in vantaggio col gol di Silvia Bosurgi anche per lei secondo centro del torneo che è bello ragazzi perché l'Italia in questo momento ha messo la sua calottina davanti a quella dell'avversario Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti